Bentrovati ragazzi, oggi affrontiamo il proemio dell'Eneide, i primi undici versi del capolavoro di Virgilio e faremo lettura metrica, traduzione e analisi testuale. Allora, intanto procediamo con la lettura metrica. Fugus la vigna que venit, litora multillet teris iactatus et alto, vi superum seve memorem iunonis obhiram. Multa quoquet bellò passus dum conderet urbem, inferetque deos lazio genusungue latinum, albanicque patres acqualte menia rome, musa mii causas memoracuo numine leso, quid vedolens regina deum tot volvere casus, insignem pietate virum tot adire lavores, impulerit tantena nimis celestibus ire. Allora, come tutti i proemi che si rispettino, anche quello dell'Eneide è diviso in due parti. Allora, i primi sette versi, da Arma fino a Rome, rappresentano la protasi, cioè la presentazione dell'argomento. Mentre dal verso 8 fino al verso 11, fino a impulerit, va bene, laddove c'è il punto, quindi questa forte cesura, abbiamo l'invocazione alla musa. E poi questo verso si conclude con questa frase, che è un commento del poeta, a indicare che Virgilio vuole, diciamo, violare il codice dell'impersonalità e dell'oggettività che era proprio della poesia epica di Omero. Allora, intanto facciamo la traduzione. Sapete che nella protasi c'è, diciamo in sintesi, tutto il contenuto del poema, insomma i contenuti principali del poema. Allora, cosa dice Virgilio? Io canto le armi e l'uomo, cioè l'eroe, il quale per primo dalle cosse di Troia, profugo per volere del fato, giunse in Italia e nelle spiagge Lavinie. Egli fu sballottato molto e per terra e per mare dalla forza o dalla violenza degli dèi a causa della memore ira della crudele Giunone. Molto sopportò anche in guerra, finché fondò la città e portò gli dèi nel Lazio, da cui la Sir Pelatina e i padri albani e le mura dell'alta Roma. Questa è la protasi. Traduciamo anche l'invocazione alla Musa. O Musa, ricordami le cause, i motivi, per quale divinità offesa o di che cosa, dolendosi, la regina degli dèi abbia spinto un uomo, un eroe illustre, famoso per Pietas, a subire tante vicissitudini, ad affrontare tante sofferenze. Tanto grandi sono le ire negli animi dei celesti, veramente, letteralmente sarebbe negli animi celesti, però noi in italiano preferiamo dire negli animi dei celesti. Allora, vediamo la protasi. E qui c'è, insomma, da dire tante cose. Allora, intanto il poeta usa la prima persona singolare, Io canto, Canu, non dice, Canta mio Musa l'ira funessa del pelide Achille. Ma questo perché il poeta non ha bisogno dell'ispirazione della Musa per cantare. Cioè, c'è una differenza tra la poesia omerica che nasce come poesia orale e quindi l'Aedo aveva bisogno dell'ispirazione della Musa per aiutare la memoria, mentre il poema di Virgilio è poesia scritta, va bene? E' poesia scritta a tutti gli effetti. Quindi è opera del poeta Virgilio, il quale giustamente scrive Io canto. Non solo, ma quest'Io, cioè questo pronome di una persona singolare, noi lo troviamo anche qui, mi, ed è indice anche del fatto che Virgilio ha un modo di scrivere soggettivo che appunto non rispetta per niente il distacco e l'impersonalità della scrittura omerica. Allora, Io canto le armi e l'uomo, l'eroe, attenzione, e abbiamo colorato, abbiamo evidenziato queste due parole con diversi colori, ma perché arma sta per guerra, per bella, è una metonimia che indica le guerre, che è la guerra anzi, che Edeide ha dovuto affrontare nel Lazio contro Turno, il re dei Rutuli. Quindi, se facciamo mente locale, questa parola arma, come guerra, indica la seconda esade del poema, cioè la cosiddetta parte iliadica, in cui abbiamo come tema principale la guerra. Mentre Virum, la seconda parola, vir, viri, sappiamo che significa uomo nel senso di eroe, mentre homo, ominis, è l'uomo come genere umano. Quindi l'eroe sarebbe Enea, e in questo caso il poeta vuole indicare i viaggi che Enea dovette affrontare prima, con tutti gli ostacoli, diciamo, ad essi connessi, prima di arrivare nel Lazio. E quindi, con questa parola, Virgilio indica la parte odissiaca, cioè la prima esade del poema, che ha come argomento principale il viaggio. Va bene? Allora, poi, Troie qui, naturalmente sta per qui Troie, anche perché, come sapete, il pronome relativo è all'inizio della frase, quindi troviamo un'anastrofe. Ab Horis Troie è un iperbato, è un iperbato perché dovrebbe essere Ab Troie Horis, e insieme anche un'anastrofe, va bene? Comunque, le due espressioni sono Troie a Boris, che dovrebbero stare unite, sono invece saccate. Allora, poi abbiamo due parole chiave, profugus, ad indicare Enea. Enea, in effetti, è un profugo, come quei profughi che, a causa delle guerre, ricordiamo la guerra in Siria, le guerre in Palestina, sono costretti a lasciare le loro terre. E ad Enea, a causa della guerra di Troia, che è durata dieci anni, la patria addirittura è stata distrutta, è stata incendiata. Quindi Enea è un'esule. E infatti il suo viaggio è diverso da quello di Ulisse, per due motivi. Intanto perché Enea è un'esule, quindi non è più una patria. E quindi sta viaggiando verso una meta che lui non conosce. Sa che dovrà arrivare nel Lazio, sa che dovrà fondare una città, o comunque dovrà porre presupposti per la fondazione di una città che sarà più gloriosa di Troia, però non conosce neanche la meta. Sa soltanto che quando arriverà alla meta gli dèi gli daranno un segnale. Invece Ulisse, Ulisse sta ritornando in patria. Ulisse la patria ce l'ha, deve solamente ritornare in patria. Quello di Ulisse è un nosos, è un viaggio di ritorno in patria. Un'altra differenza appunto che è data da questa parola fato, profugo, esule, per volere del fato. Perché Enea è l'eroe che si sottomette alla volontà degli dèi. Questo è l'eroe Pius per eccellenza, no? E' l'eroe a cui è stata affidata una missione e che quindi sacrifica se stesso anche i suoi sentimenti più intimi per portare a termine questa missione voluta appunto dagli dèi, voluta dal fato. Quindi, mentre Ulisse viaggia per, diciamo, uno scopo individualistico, cioè vuole ritornare in patria per ritrovare la moglie, per riabbracciare il figlio, per riprendersi il trono e uccidere i proci, quello di Enea invece è uno scopo collettivo. C'è una missione che gli hanno imposto gli dèi ed è una missione che è un viaggio che Enea fa per la collettività, per uno scopo collettivo, va bene? Quindi ecco perché queste parole chiave sono molto importanti. Allora, quando il poeta dice il, riferito ad Enea, vi ricordo che il può stare anche per quel famoso, va bene? Quello fu molto sballottato e per terra e per mare. Qui abbiamo il motivo del viaggio, va bene? Infatti l'abbiamo evidenziato col verde per, diciamo, assimilarlo a virum. Attenzione che sia in Iactatus, sia poi successivamente in Passus, abbiamo sottinteso il verbo est. Allora, quindi questo è il motivo del viaggio, appunto, per terra e per mare, dalla forza degli dèi e chi è soprattutto che sballotta Enea e gli crea difficoltà nel viaggio. Ecco, una somiglianza tra il viaggio di Ulisse e il viaggio di Enea è che, appunto, tutti e due, questi eroi, hanno una divinità che li perseguita. nel caso di Ulisse è il dio Poseidone o Nettuno che ce l'ha con lui perché gli ha accecato il figlio Polifemo, nel caso di Giunone, nel caso di Enea è la dea Giunone. La dea Giunone, attenzione, a causa della memore ira della crudele Giunone perché la dea Giunone odiava Enea in quanto si ricordava della scelta della mela, la mela alla più bella. Enea era figlio di Venere e sappiamo che Venere venne preferita da Paride a Giunone e ad Atena come dea più bella e quindi questo fu per Giunone, questa fu per Giunone un'offesa che non appunto dimenticava. Ecco perché memore anche se e attenzione l'aggettivo memore è unipallage in quanto logicamente dovrebbe essere riferito a Giunone e non all'ira va bene? E quindi è unipallage. Qui troviamo anche due perbati l'uno dentro l'altro perché noi abbiamo memore che va con Iram e seve che va con Iunonis va bene? E poi anche una nastrove perché dovrebbe essere Ob Iunonis Iram va bene? Mentre Iunonis Ob Iram vedete quante figure retoriche in pochi versi. Passiamo a Passus Passus est quindi soffrì molto anche in guerra e attenzione vedete il poeta utilizza lo stesso avverbio multum e multa e quindi abbiamo un poliptoto anaforico lo stesso avverbio per indicare appunto sia il viaggio sia il motivo della guerra perché questo è il motivo della guerra infatti c'è anche la parola bello e quindi si può associare ad Arma va bene? E infatti se noi mettiamo insieme queste quattro espressioni abbiamo un chiasmo perché Arma e poi Virgilio dice finché fondò la città attenzione la città non è non è naturalmente Roma che fu fondata da Romolo e Remo ma è la città di Lavinio in quanto Enea una volta giunto nel Lazio sposò la figlia del re latino Lavinia e fondò la città fondò una città che in onore di Lavinia chiamò Lavinio va bene e che fu diciamo punto di partenza per la futura fondazione di Roma e portò l'idee nel Lazio naturalmente sono l'idee penati che Enea si era portato da Troia e poi Unde Genus anche qui un'altra Anastrofe no? Unde prima di Genus da cui la Sirpe Latina e i padri albani e le mura dell'alta Roma allora a parte il poliptoto que que atque e abbiamo anche un climax ascendente con cui il poeta praticamente sintetizza in un verso e mezzo la storia di Roma fino alla fondazione della città e un altro climax però ce l'abbiamo ce l'abbiamo prima ad indicare Enea perché c'è Profugus poi c'è Iactatus e poi c'è Passus quindi un climax ascendente ad indicare che Enea è Esule perché come abbiamo detto non ha più una patria il tema del viaggio è stato sballottato per terra e per mare prima di arrivare nel Lazio e poi infine nel Lazio è dovuto anche affrontare una guerra e quindi ecco queste diciamo queste tre vicissitudini che Enea ha dovuto sopportare che ci danno l'idea di un eroe tormentato di un eroe che ha dovuto affrontare tanti patimenti tanti sacrifici e tante tante difficoltà allora torniamo alla al climax di cui vi dicevo allora e quindi i tre momenti della storia di Roma da cui la Sirpe Latina la Sirpe Latina perché appunto quando Enea sposa la figlia del re latino Lavinia praticamente i due popoli troiani e latini si uniscono in un unico popolo che è appunto il popolo latino poi successivamente cosa succede e abbiamo i padri albani perché il figlio di Enea Lulo o Ascanio fonderà la città di Albalonga città molto importante villaggio molto importante perché proprio da Albalonga dal re di Albalonga verranno fuori Romolo e Remo che sono praticamente i figli di Rea Silvia la figlia del re di Albalonga quindi i nipoti del re di Albalonga va bene quindi ecco perché Albalonga è molto importante e quindi appunto da Albalonga provengono Romolo e Remo e quindi ecco Romolo e Remo i fondatori delle mura dell'alta Roma anzi sappiamo che è stato Romolo a fondare Roma va bene quindi ecco i tre momenti in climax della storia di Roma fino alla sua fondazione c'è da notare anche un'altra cosa alte e un'altra e pallage perché in effetti questo aggettivo dovrebbe andare con Menia e non con Roma perché le mura sono alte non la città di Roma quindi dovrebbe essere logicamente logicamente le alte mura di Roma quindi abbiamo un'altra i pallage e poi vabbè Albani Atque Alte e una alliterazione bene abbiamo finito la protesi la prima parte adesso andiamo all'invocazione all'angunza qui notiamo subito un'altra alliterazione mu mi me mo mi ma meno una alliterazione l'invocazione alla musa naturalmente il poeta invoca la musa della poesia epica cioè Calliope ma cosa vuole da questa musa più che cioè non vuole raccontata la storia non vuole appunto l'ispirazione come chiedeva omero vuole invece ricordate dalla musa le cause dell'odio che Giunone nutriva nei confronti di Enea e che causò tante sofferenze ad Enea va bene quindi ancora una volta vedete abbiamo questa impostazione soggettiva per cui il poeta è come se dicesse la storia la scrivo io tu mi ricordi solo i motivi di questa persecuzione di Giunone va bene quindi abbiamo qua espresso al dativo il pronome personale di prima persona musa ricordami le cause va bene per quale divinità offesa o di che cosa dolendosi la regina degli dei che sarebbe Giunone che era anche la moglie di Giove Deum è una forma contratta che sta per Deorum quindi abbia costretto questa è un'interrogativa indiretta abbia spinto abbia costretto un uomo di nuovo Virum va bene quindi in anafora Virum Virum riferito sempre allo stesso Enea un eroe illustre per Piedas allora anche questa è una parola chiave infatti l'abbiamo evidenziata con l'azzurro parola chiave perché voi sapete che la caratteristica principale di Enea è quella della Piedas cioè della devozione della religiosità Enea è l'eroe che si sottomette alla volontà degli dei e che sacrifica la sua vita a questa missione che gli dei gli hanno imposto Enea è l'eroe devoto alla patria che infatti si porta anche venati della patria nel Lazio Enea è l'eroe devoto ai genitori tanto che nella fuga da Troia si porta il padre sulle spalle quindi Enea è l'eroe Pius per eccellenza va bene e quindi ecco a maggior ragione non si spiega l'ira di Giunone perché Enea personalmente a Giunone non aveva fatto nulla e qui c'è una differenza con con Ulisse perché almeno Ulisse ha causato di sua iniziativa con l'accecamento di Polifemo anche se è stato un accecamento per legittima difesa voglio dire però ha causato personalmente con l'accecamento di Polifemo l'ira di Poseidone mentre in questo caso Enea personalmente non aveva fatto nulla contro la la dea Giunone e anzi era sempre stato devoto a tutti gli dei va bene quindi ecco perché il poeta non capisce e vuole spiegato dalla musa il motivo di quest'ira di Giunone e allora abbiamo spinto ecco qua abbiamo due espressioni che sono sinonimiche intanto c'è la ripetizione del tot tante vicissitudini tante sofferenze e poi volvere con a dire sono sinonimi infatti l'uno l'abbiamo tradotto con subire l'altro con affrontare e anche casus nel senso di vicissitudini labores nel senso di sofferenze sono dei sinonimi però ecco il poeta ripete due volte la stessa espressione con parole diverse proprio per sottolineare il fatto che le sofferenze di Enea sono state tante appunto tot sono state tante sono state innumerevoli va bene numerosissime le sofferenze di Enea per un motivo ecco che lo stesso Virgilio non si spiega per l'ira di questa dea e qui finisce l'invocazione alla musa e poi il poeta conclude con un commento personale ripeto ecco qua l'impostazione soggettiva della narrazione si chiede con una interrogativa retorica così grandi sono le ire negli animi dei celesti ecco già con questo commento personale il poeta ci va a capire che l'impostazione del poema sarà un'impostazione soggettiva e non oggettiva come i poemi epici di Omero va bene e qui diciamo che abbiamo finito col poemio c'è un'ultima cosa da dire un'ultima diciamo aggiunta e vi ricordo arma virunque cano ricorda molto da vicino l'inizio della gerusalemme liberata canto le armi pietose e il capitano ecco armi tasso aggiunge pietose e il capitano sarebbe virum no l'eroe ad indicare che del resto tasso quando scriveva la gerusalemme liberata aveva come modelli non tanto ariosto quanto proprio i poemi omerici e virgilio insomma l'epica classica va bene e con questo penso di aver finito ariosto 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 ariosto